In che condizioni ha trovato il cimitero? Beh, diciamo nella norma, molto affollato soprattutto. Poi la pulizia? Un po' così. Un po' così, un po' così. Bello tutto, bello pulito, no no bene l'ho trovato. Discreto, discreto diciamo, nella via di mezzo. Buona, buone condizioni, pulito. Nessun disservizio quindi? No, perfetto. Continuate a pulire? Sì. E purtroppo si deve fare, perché abbiamo l'ordine e così vuoi. Le persone dicono che è tutto sommato il cimitero in buone condizioni? Certo, avevo un anno che non si faceva quello che si fissi, giustamente. In questi giorni quindi avete lavorato? Sì, molto. Tutti, questo si è ben servito. A presidiare il Camposanto, le forze dell'ordine, quest'anno, fiorai e clienti entrambi soddisfatti. Signora, quanto ha speso per i fiori? Sinceramente 6 euro. Prezzi abbordabili? Penso di sì. Con i giorni che siamo, penso che siano più che abbordabili. Un prezzo giusto, non è stato esagerato, grazie. Prezzi dei fiori abbordabili? Beh, così. Abbastanza, abbastanza. Nessun rincaro rispetto agli altri anni. Guarda, non sono un frequentatore assiduo, quindi non saprei fare il paragono con gli altri anni precedenti. Non saprei, comunque penso che siano dei prezzi accessibili. Una quindicina di euro soltanto. Prezzi abbordabili? Sì, abbordabilissimi. Soltanto un inconveniente. Due persone, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati nell'ascensore mentre stavano raggiungendo il primo piano del padiglione per portare i fiori ai propri cari. Scattato l'allarme, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale e vigili del fuoco che hanno provveduto a liberarli. Grazie. 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 Grazie.